E' stato individuato dai carabinieri il pirata della strada che mercoledì della scorsa settimana a Biceglie ha investito una 35enne del figlio di 5 anni mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali. Si tratta di un 19enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto responsabile di lesioni colpose, omissioni di soccorso, guida senza patente, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici e fuga in caso di incidente. Il giovane in sella di uno scarabeo ha travolto la donna e il bambino in via Carrara alla Maveta, dileguandosi. Dopo l'investimento mamma e figlio sono stati subito soccorsi da personale sanitario dell'ospedale di Andrea. La donna, ricoverata in prognosi riservata, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per l'asportazione della milsa, mentre il bambino ha riportato fortunatamente solo alcune contusioni ed escoriazioni. I carabinieri, grazie alle dichiarazioni fornite da alcuni testimoni, sono riusciti ad identificare e rintracciare il 19enne, che non ha mai conseguito la patente. Il mezzo è stato trovato qualche giorno dopo l'incidente in un terreno incontrato a Casella a Bicelli e quasi completamente bruciato.